Ciao, come ti chiami? Sono Chiara Ciao, Michela Ciao, io mi chiamo Umberto Ciao, io sono Paolo Che lavoro fai? Ma io sono un ricercatore, sono un biologo marino, anzi in particolare sono uno zoologo marino Faccio la chimica ambientale Sono biologo marino Faccio il biologo marino Cosa significa? Significa che studio tutti gli animali che vivono nel mare Perché se ti occupi del mare stiamo parlando con te della plastica? Parliamo della plastica perché purtroppo la plastica è un grande problema Gli animali se la mangiano Tartarughe, squali e pesci Come studi l'impatto della plastica nell'ambiente marino? La plastica noi la studiamo prendendo tutti gli animali che purtroppo muoiono a causa della plastica Gli facciamo un'operazione, guardiamo il loro stomaco e dentro gli stomaci troviamo tanta plastica Busta, il cotton fioc, il polistirolo e gli stomaci sono davvero pieni Purtroppo alcuni animali si confondono, per esempio le tartarughe e i delfini mangiano la plastica perché la scambiano per meduse Tutti voi conoscete come è fatta una medusa che assomiglia a una busta di plastica e quindi se la mangiano Per altri invece, alcuni pesci, probabilmente essendo la plastica dappertutto la mangiano senza accorgersene Questa plastica è prodotta dagli uomini Allora che succede? Che questa plastica che finisce nell'ambiente marino può subire dei processi, possiamo dire, di decadimento Decadimento significa che in qualche modo il vento, il sole, le mareggiate possono pian piano sminuzzare questa plastica Fino a portarla a delle dimensioni molto molto piccole, delle dimensioni che sono visibili anche al microscopio E' appunto, diciamo, dell'ordine dei micron Quindi questa plastica ridotta a pezzettini che si chiama microplastica Può essere ingerita dagli organismi marini e quindi essere molto dannosa Il fenomeno con cui questi pezzettini molto microscopici di plastica vengono ingeriti dall'organismo Si chiama biaccumulo Biaccumulo significa che l'organismo marino, diciamo, ammucchia Passiamo questo termine, ammucchia tutta questa quantità di plastica all'interno del suo organismo, dei suoi tessuti E quindi, che cosa succede poi? Che se l'organismo marino più piccolo viene mangiato dal pesce più grande, dall'organismo più grande Questa quantità di plastica aumenta e cresce sempre di più man mano che l'organismo marino diventa sempre più grande E quest'altro fenomeno si chiama biomagnificazione Noi studiamo direttamente l'impatto della plastica studiando degli indicatori biologici Ovvero, prendiamo degli animali e vediamo se al loro interno è presente della plastica Ovvero, se la ingeriscono o se entrano in contatto con essa Ma tutto questo accade solo sulle spiagge o anche nel mare più profondo? Eh no, perché il mare non ha confini, quindi non è che si ferma ai confini degli stati e persino nelle aree marine protette Perché noi abbiamo fatto diversi studi confrontando sia aree marine protette che zone un po' più inquinate E abbiamo visto che non c'è assolutamente differenza per quanto riguarda la densità delle plastiche Perché le plastiche vengono trasportate dal mare e vengono trasportate dovunque Studio tutti quegli animali che vivono sott'acqua nelle profondità del nostro mare Soprattutto sul fondo marino, quindi tanti invertebrati, coralli, spugne, ricci, eccetera, eccetera La plastica sta da tutte le parti, anche a mare E soprattutto sul fondo del mare E dove ce n'è tantissima a tutte le profondità Fino a anche 10.000 metri di profondità E poi in tutti i mari del mondo purtroppo Per cui andando ad esplorare le profondità Troviamo tante bottiglie, piatti di plastica, spazzature in generale, reti perse, lenze e quant'altro Noi lavoriamo con una specie di robot Che va sott'acqua fino a 2.000 metri E praticamente riusciamo a vedere tutto quello che c'è sul fondo E quindi grazie a questo strumento Oltre a studiare gli animali che ci vivono Andiamo a documentare anche tutta la spazzatura E l'immondizia e la plastica che troviamo sui fondi del mare E quindi contiamo tutti quelli che sono gli oggetti che troviamo E soprattutto vediamo che impatto hanno sull'ambiente Allora ciao bambini Mi raccomando voi siete il nostro futuro Quindi riflettete su tutte queste cose Buongiorno ragazzi Il mare è grande ma voi siete tutti gocce Ricordatelo sempre Ciao ragazzi Mi raccomando Considerate tutti gli organismi marini belli Quindi non solo cetacee, delfini, balene Ma anche quei piccoli vermi marini che compongono il mare Perché quelli sono anche più importanti di quegli altri parenti un po' più belli e pregiati Ciao ragazzi Mi raccomando Amate il mare Mi raccomando